Devo dire che vi è qualcosa che ancora mi lascia perplessità perché si è mantenuto il numero chiuso per gli allenamenti e io mi domando sinceramente che un nonno, il babbo, la mamma accompagna il bambino all'allenamento, non vedo perché non c'è certo la pressione della folla possa assistere, però ad oggi nel DPCM questo non è previsto, anzi si prevede che gli allenamenti siano a porte chiusi. Faremo pressione perché questo atto vale un mese come conferenza Stato-Regioni per poter invece consentire l'apertura entro i limiti di assembramento anche per gli allenamenti. Devo dire che le regioni non hanno la possibilità di derogare a questi limiti, va precisato perché oggi ho avuto tante sollecitazioni in tal senso, noi possiamo ai sensi del decreto legge 175 semplicemente fare degli atti più rigorosi di quanto fa il legislatore nazionale, ma non è mia intenzione fare atti più rigorosi perché ritengo che sia un punto di equilibrio a cui le società sportive e tutti coloro che fanno attività sportiva si possono attenere.